Peccato, ci vorrebbero ore e ore per parlare di questa Eribanova 690S, una caravan che purtroppo non vedremo sul mercato italiano perché se ne vendono, ma tutta di importazione in quanto la rete vendita non ritiene di doverle importare. Se notiamo bene, guardiamo ad esempio la dinette centrale, prima abbiamo visto quella anteriore, è una classica pianta da caravan svedese, adatta sia per chi fa un turismo stanziale sia anche per chi percorre migliaia di chilometri. Guardate il lettore francese, la cucina è di classica derivazione inglese ma è una classica cucina da caravan svedesi e questo è il punto, questo modello ha una qualità estrema, davvero al vertice assoluto nella categoria caravan in Europa continentale. Ecco, il lavandino è carino, mi piacerebbe sapere come si fa a pulire la polvere di attorno, ma comunque il box doccia è anche regolare, diciamo che con un bel riscaldamento Alde è proprio una caravan non da sogno ma da utilizzare tutti i giorni.